Amici del software libero open source, ma che non vi fa schifo nemmeno la Microsoft, benvenuti o bentornati in questa 64esima puntata del podcast di Marcos Box. La scorsa settimana vi avevo parlato della decisione da parte del team di Ubuntu Studio di ribasare la distribuzione su KDE Plasma. A distanza di qualche giorno sono arrivati i primi dettagli sulla migrazione e alcune informazioni riguardanti il consumo di RAM. Bene, si è visto che Ubuntu Studio 20.10, basata su KDE Plasma, consuma circa 50 MB in più rispetto alla controparte con i XFCE, ed è un risultato estremamente trascurabile, specie su computer moderni dotati di buon quantitativo di RAM, che poi è il target di Ubuntu Studio. Ubuntu Studio non è mai stata indirizzata agli utenti che vogliono dar vita a un vecchio computer, per cui ci sono distribuzioni come Ubuntu o Xubuntu. Bene, in questo momento la transizione a KDE Plasma è quasi completa, ci sono ancora alcuni aspetti relativi alla selezione dei temi e le applicazioni da preinstallare, ma comunque possiamo già dare uno sguardo a quello che sarà il look della distribuzione. Bene, si è pensato di utilizzare il tema Materia con l'icone Papirus, quindi mantenere l'aspetto che già era presente sull'edizione con XFCE, quindi se andate a vedere un po' la comparativa degli screenshot tra la vecchia e la nuova versione non vi troverete spaisati. Fra le cose che bisogna ancora sistemare c'è il discorso relativo all'Installer, attualmente utilizza quello di Ubuntu, con tutta la grafica, tutti i look di Ubuntu, ma il team ha pensato di cercare di modificare il tutto, e collaborare con il team di Ubuntu per riadattare l'Installer, e se questo non dovesse essere possibile, di utilizzare un programma di installazione differente, potrebbe essere molto probabilmente Calamares, che già viene utilizzato dal team di Ubuntu. Comunque staremo a vedere nelle prossime settimane gli ulteriori sviluppi che posterò su Marcosbox. Qualche settimana fa vi avevo parlato di Ubuntu DDRMX, la derivata non ufficiale di Ubuntu, che fa l'utilizzo di DP Index Open Environment come ambiente grafico predefinito. Con il rilascio della prima versione stabile della distro basata su Ubuntu 20.04, molti utenti si sono interrogati su quali politiche di aggiornamento verranno adottate dai manutentori della distro per quanto concerne il supporto a DPIN Desktop Environment. Attualmente viene utilizzata la versione 5, che è la stessa presente su DPIN 15.11. Sappiamo però che a breve verrà rilasciato DPIN 20, e in concomitanza con il rilascio di questa nuova versione di DPIN, verrà rilasciata anche una nuova versione di DPIN Desktop Environment, con un design completamente stravolto rivisto che ad alcuni non piace, ma vabbè, questi sono gusti personali. Viste le scarse informazioni in merito sul sito ufficiale di Ubuntu, DPIN Desktop Environment Remix, il nome più corto non lo saperemo mettere, ho deciso di contattare direttamente il team di sviluppo della distro che mi ha comunicato quanto segue. Bene, l'attuale versione LTS non avrà aggiornamenti relativi a DPIN Desktop Environment, quindi vi tenete questa versione e ve la terrete per i prossimi anni. L'aggiornamento di DPIN Desktop Environment arriverà invece con la prossima release semestrale. Questo significa che Ubuntu DDRMX 20.10 Griglia, se tutto andrà bene, avrà dunque l'ultima versione di DPIN Desktop Environment, cioè quella presente su DPIN 20. Restiamo a parlare di DPIN Linux. Su Marcosbox ho pubblicato un interessante articolo che svela i rapporti tra Tonksin UOS e DPIN. Per farlo a breve, DPIN Linux è una distribuzione guidata dalla comunità e interessata soprattutto al mercato internazionale. Esiste però anche una controparte commerciale di DPIN chiamata UOS, o meglio Tonksin UOS, che è una distribuzione commerciale che è basata sulle tecnologie sviluppate in seno a DPIN e pensata per il mercato cinese, che integra al suo interno anche alcune parti di codice proprietario. Su Marcosbox trovate un articolo che fa luce sui rapporti tra Tonksin UOS e DPIN e trovate anche il link all'intervista a Liu Wen-Wan, spero di averlo pronunciato bene, che è l'attuale direttore generale del software di Tonksin Software, che è la software house che, diciamo così, sotto il cui ombrello risiedono tutte queste distribuzioni cinesi e altri servizi connessi. So che a molti di voi non fregherò una ben amata cippa di questo argomento, visto che il blog è rivolto principalmente agli appassionati di software libero open source, ma non si vive di solo Linux, ma si vive anche di sistemi operativi Microsoft, purtroppo nella vita professionale prima o poi ci scontriremo con un sistema operativo Microsoft, tanto vale restare aggiornati, stare sul pezzo. Bene, Microsoft si appresta ad abbandonare la versione a 32 bit di Windows 10, o almeno lo farà per quanto riguarda le licenze OEM rilasciate ai produttori di computer. Sul sito Microsoft sono stati aggiornati i requisiti minimi per Windows 10 versione 2004, ovvero il nuovo aggiornamento di versione di Windows 10, il cui rilascio è previsto per maggio 2020, e si legge chiaramente che non verrà più data la possibilità agli OEM di preinstallare versione a 32 bit di Windows 10. Questo non influirà sui sistemi dei clienti che attualmente utilizzano la versione a 32 bit di Windows 10, perché Microsoft si impegna a fornire aggiornamenti di funzionalità e sicurezza su questi dispositivi. In Cusa, la disponibilità continua a supporti a 32 bit nei canali non OEM, quindi è una notizia che riguarda appunto soltanto i produttori, che toccherà soltanto i produttori, ma che comunque lascia presagire l'intenzione di Microsoft di dare un calcio alle versioni a 32 bit, prima o poi, se non nel breve periodo. Ipotizzo che entro l'anno prossimo ci saranno novità anche per quanto riguarda gli aggiornamenti per le versioni a 32 bit lato desktop, ma vedremo, staremo a vedere. Torniamo a parlare del comune di Monaco di Baviera, uno dei comuni apripista per quanto riguarda l'adozione di soluzioni open source da utilizzare sui computer della pubblica amministrazione comunale. O meglio, lo era fino al 2017, anno in cui la precedente amministrazione comunale non decise di tornare a Microsoft. Bene, adesso è cambiato nuovamente il governo cittadino, al governo ci sono il Partito dei Verdi con i socialdemocratici e hanno deciso di comune accordo di tornare ad adottare soluzioni con licenze open source. Il tutto è stato messo nero su bianco in un accordo di governo che prevede che ovunque sia tecnicamente e finanziariamente possibile, la città di Monaco di Baviera farà affidamento a standard aperti e software con licenze open source, evitando così prevedibili dipendenze da sviluppatori specifici, in questo caso Microsoft. Questa clausola viene considerata un principio fondamentale per l'affidamento degli appalti per quanto riguarda la gestione del software. In mancato rispetto di questo principio deve essere giustificato, quindi si deve trovare una valida motivazione che spinga l'adozione di software proprietario. La città manderà anche un dashboard open source accessibile al pubblico che includerà il dettaglio dei costi, anche dei sistemi operativi e delle soluzioni per l'ufficio e mostrerà in quali settori viene utilizzato il software open source e gli sviluppi fatti in questo campo. È una notizia davvero bella che spero venga adottata anche dai nostri comuni, dai comuni italiani. I software open source e le soluzioni standard aperti devono essere, a mio avviso, rispettate dalla pubblica amministrazione. Perché, come ribadito anche dall'accordo di governo fatto dai verdi e dai socialdemocratici, nel campo della sovranità si deve applicare il principio del public money, public code. Cioè, sono soldi pubblici di tutti quanti, il codice deve essere pubblico, deve essere tutto reso disponibile, e non bisogna legarsi a fornitori che offrono soluzioni proprietarie. E se io pago con soldi pubblici per il codice, il codice deve essere disponibile apertamente. Ed è infatti così che farà anche il comune di Monaco di Baviera, che pubblicherà anche il codice sorgente del software cittadino. La città di Monaco si impegnerà, oltretutto, anche a supportare lo sviluppo di progetti open source tramite il Munich Open Source Sabbatical. Gli sviluppatori professionali che vogliono concentrarsi per tre o sei mesi totalmente allo sviluppo di progetti open source possono candidarsi per ottenere anche una borsa di studio finanziata dal governo della città e avere così anche finanziamenti. Quindi, un grosso impegno che la città di Monaco di Baviera sta portando avanti per quanto riguarda il software open source e chapeau. Ultima notizia della settimana, che poi non è, riguarda una guida che ho pubblicato su Marcosbox che spiega come attivare la funzionalità di Picture in Picture su Google Chrome. Nel blog trovate la spiegazione su come utilizzare la funzionalità nativa, che supporta soltanto i video da YouTube, o quella estesa che funziona grazie a un'estensione sviluppata da Google stessa e che consente di poter avere la funzionalità di Picture in Picture su qualsiasi sito di streaming, quindi Netflix, Facebook, i siti che frequentate e quant'altro. Bene, con questo ho concluso. Gunga vita e prosperità a tutti quanti, buona fase 2. Ci rivediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao! Grazie! 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 Grazie!